Squadra antimafia è per la prima volta che Nico Giraldi va a risolvere un caso negli Stati Uniti, dove vive un boss della mafia che io devo investigare. La figlia di questo boss era un'attrice straordinaria, fantastica, attrice di teatro, che si chiama Margherita Fumero, non molto avvenente fisicamente, però imbruttita, lei stessa voleva essere imbruttita, era quella che ballava con me, una cosa del Saturday Night Fever, dove lei mi diceva, Nico, perché se ne amorava, fammi vedere il tuo come si dice, e io ti faccio vedere, ti prometto, ti faccio vedere il mio come si chiama. E ebbe tanto successo che Maria Sole poi fece due o tre film dopo quello. Parliamo di Cannavale, un attore veramente eccezionale, un napoletano che improvvisa, e quando dice le sue cose è come una tarantella, bello, musicale, simpatico, ingermo. E però Cannavale mi ricorda una scena in cucina dove sono particolarmente legato a questa scena perché per la prima volta appare mio figlio Tommaso, che fa l'aiuto cuoco facendo il, come si chiama, il sugo. E devo dire che molto bravo perché lo ha fatto molto bene, muovere il cucchiaio. Anyway. Un dato vero. No, no, no. Grazie a tutti